Celebrato a Palermo il compleanno del vicequestore aggiunto Ninni Cassarà, barbaramente assassinato nell'85 dalla mafia alla giovane età di 38 anni. Una giornata, quella di stamani a Villa Paino, dedicata alla memoria e allo stesso tempo alla formazione. L'obiettivo infatti, quello di ridare voce viva ai suoi iscritti e diffonderli all'interno delle scuole. L'idea di festeggiare un compleanno è dall'idea dell'uomo, della persona, che a volte noi commemoriamo gli omicidi di mafia e pensiamo al professionista, al magistrato, al poliziotto. L'idea di festeggiare un compleanno dà l'essenzo e il segno di quelli che sono stati questi uomini realmente, perché erano padri, fratelli, genitori, figli. Quindi li fa ritornare nella dimensione umana per quello che è. E oggi raccontiamo l'uomo, Nini Cassarà, oltre ovviamente a raccontare quello che ha fatto e quello che ha scritto. Studenti provenienti da varie scuole di Palermo dunque hanno partecipato attivamente alla giornata leggendo stralci di interviste dello stesso Cassarà e l'introduzione del rapporto 161, quell'importantissimo documento di polizia giudiziaria che fu alla base del maxiprocesso. I ragazzi oggi daranno vita a uno straordinario momento di ricordo che si fa a memoria e si fa a memoria per essere impegno. Loro ricorderanno Cassarà vivo, lo ricorderanno attraverso le parole del dottore Cassarà, barbaramente ucciso. Per gli studenti questo è un momento fondamentale di formazione perché è un invito a riflettere intanto sulla storia della loro città, sulla storia della nostra regione, sull'impegno che è stato profuso per ottenere una trasparenza, un'idea di legalità. La scuola ha un compito fondamentale nell'educare la mentalità dei giovani alla correttezza, alla giustizia, all'osservanza delle regole.